da palermo a torino venite a napoli a vedere le universiadi c'era qualcuno che diceva vedi napoli e poi muori io dico vedi napoli e vivi meglio si rappresentano proprio l'unione dei popoli la pace la correttezza e la lealtà quello che accomuna questo genere di eventi è il fatto di trovarsi insieme a grandi campioni di tutti gli sport di tutti i paesi la cosa importante è che abbatte qualsiasi barriera che sia una barriera etica una barriera politica una barriera sociale ci apprestiamo ad ospitare atleti provenienti da tutto il mondo grazie a tutti